sembra pioggia a sentire questa è la pavimentazione della grande cripta questo è il lato destro della grande cripta questo è il soffitto noi abbiamo già visto di lì parte sinistra parte frontale dell'altare altare bellissimo pavimento canta canta questo è un sarcofago dove è stato sepolto quello che ha fatto fare la cripta era un vescovo? un vescovo? un cardinale un cardinale vescovo allora qua non si è così è così